Ciao a tutti e benvenuti nella mia prima morning routine. Allora io ho iniziato questa morning routine dal mio ragazzo, dormo da lui quattro volte a settimana e allora per svegliarmi sostanzialmente io rimando la sveglia quattro cinque volte perché svegliarmi di botto e poi alzarmi non ci riesco e quindi insomma rimandando la sveglia questo mi aiuta pian piano a realizzare e che mi dovrò alzare. Un altro modo per riuscire a svegliarmi è insomma prendere il telefono e guardare un po' i social sostanzialmente controllo instagram guardo se mi sono arrivati messaggi notifiche se volete potete seguirmi mi chiamo no diet but lifestyle l'ho pronunciato benissimo e niente qua condivido sempre tutto quello che mangio nelle storie anche molto spesso e condivido ricettine che spesso magari non pubblico su youtube e quindi se avete piacere potete seguirmi anche qua cosa che faccio è bere un bicchiere d'acqua innanzitutto per mettermi avanti perché faccio una gran fatica a bere durante il giorno quindi in questo modo almeno inizio per bene con già un bicchiere d'acqua allora quella mattina mi sono struccata perché la sera prima non ne avevo voglia delle volte mi capita so che non è il massimo però a me vabbè volevo farvi vedere questa crema e la usa il mio ragazzo perché lui ha una pelle molto molto sensibile questa qui non ha odori profumi niente di niente la prendiamo in farmacia la uso anche io quando sono da lui e boh secondo me mi rende la pelle liscissima poi niente ora inizia la marcia per tentare di svegliare brian brian è praticamente impossibile da svegliare tranquillamente è sempre una lotta ho notato che con l'acqua se gliela verso un po' in faccia si sveglia subito però vabbè tendo a non farlo sempre proprio come ultima risorsa qua proprio mi stavo deprimendo non sapevo più come fare però alla fine ce l'ho fatta e poi ho fatto arieggiare la stanza cosa che proprio per me è un'ossessione poi mi sono niente mi sono vestita poi mi sono rimessa a fare il letto che quando ci sono io almeno il letto viene fatto quando non ci sono il letto è sempre disordinato e poi niente ci siamo salutati io sono salita in macchina e sono tornata a casa i miei erano ancora a letto e mi sono preparata la mia tisana che mi faccio ogni mattina da più o meno ottobre con radici di zenzero fresca poi ho optato per del porridge veloce e facile non me lo facevo da tanto io uso 20 grammi di fiocchi venaneutri e 20 grammi di fiocchi aromatizzati 100 ml di latte e via sul fuoco quando insomma raggiungo questa consistenza spengo il fuoco ho preparato poi a parte una cremina con 15 grammi di proteine e cacao e acqua le proteine in polvere che uso sono queste qua e le prendo alla Decathlon per smorzare il dolce utilizzo un po' di cacao amaro al mattino se non faccio colazione con mamma mi metto a guardare qualche video su YouTube e in questo momento è il momento dei video e The Sims di arredamento The Sims 4 ne sono una patita dopo colazione solitamente mi scendo in bagno ma questa mattina ho deciso di trattenermi e fare tutto qua insomma per farvi vedere che dopo colazione edito le foto poi per creare il post su Instagram della colazione io utilizzo i filtri di Instagram e non utilizzo app in particolare poi solitamente mi scendo in bagno ma questa mattina mi sono messa subito a lavare quello che ho utilizzato per fortuna mi è andata bene col porridge e non si sporca in tante cose se no solitamente il lavello è pieno poi mi verso la tisana allo zenzero che ho fatto prima e la bevo in mattinata per concludere il video mi sono andata a mettere sul letto a bere un po' la tisana niente volevo sapere se volete che vi faccia altri di questi video mi sono divertita a girarlo e ultimamente ho guardato diverse moni rontighe quindi ero particolarmente ispirata e bisogna sfruttare questi momenti di ispirazione e nulla io vi ringrazio di aver visto questo video e insomma fatemi sapere se ne volete altri ecco quella è la mia faccia scocciata che devo andare assolutamente in bagno comunque niente fatemi sapere se vi è piaciuto questo è stato proprio il mio primo video con voce narrata e scusate se insomma non sono stata proprio bravissima noi ci vediamo al prossimo video un bacione e alla prossima ciao 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 ciao